Vado a cottere C'è una Il telefono è finito a scaricarsi e a arrabbiarla C'è un bambino C'è un bambino Vado a chidere Vado a chidere Deve essere Ok, non c'è Noi, sono sono un milioner Oh, no. Tired. Oh, no. Vabbè, per esempio, non... Ullahi Oroppo Ulias non stai nica ma ne stai nì I su tersadda ngurrim bradam tenì ma nì Nigratta l'uullahi Ma vissi Tu non brisa o di ci manGE Non è un po' di più, ma non è un po' di più. un'on�tale si lo sognete e mi sentite e mi sentite e mi sentite e anche in modo che ne fai non ci sono Bello mancavallica Ani ha abud, wallahi Hacchino anna tiare un lobo Hiyaa, come te l'ho da Assalamualaikum Il giorno è stato fatto con la sua vita, la mia vita è stata fatta. La mia vita è stata fatta, la mia vita è stata fatta, la mia vita è stata fatta. come va non mi fa come vuoi oggi? come andiamo a che le ralenti? non sono un paolo non l' המostra si... è un paolo molto difficile quindi avevo un' suffice ma non va bene ma non la друга non mi è vero quanto si vorrei non ho capito non ho capito ma non è vero Si allora dovevano andare? Però perchè non ti senti? No. Non ti senti? Lei sta chingendo? Vi non mi piace? Mi senti? No? Non ti senti? Non ti senti? ma cosa cosa? Tu ti fai fatto? Tu ti fai fatto? Tu non ti fai fatto? Ma cosa cosa? Ma cosa cosa? E' un po' che ne viva? Se non c'è un po' che fa Kshar. La morte è un po' che vuole e lei è un po' che vuole La morte è un po' che vuole Che vanno bene Ok ok, se non è il nostro corso, non è il nostro corso, non è il nostro corso. Ehi, non è il nostro corso. Grazie a tutti.